Sto registrando questo video il 29 dicembre. Oggi la legge di bilancio per il 2024 è in approvazione anche alla Camera, poi vi dovremo aspettare la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il testo non dovrebbe subire modifiche rispetto a quanto approvato dal Senato, ma nel caso in cui la legge di bilancio 2024 pubblicata in gazzetta ufficiale sarà diversa da quanto vi mostrerò tra poco, sarà mia cura pubblicare un nuovo video per evidenziare le eventuali varianti. Per chi non mi conosce sono Maurizio della Porta e aiuto le persone a difendersi dal terremoto. Mi occupo di progettazione strutturale di edifici nuovi, miglioramento sismico di quelli esistenti e valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro. Se vi serve una consulenza in videochiamata visitate il mio sito web e per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Inoltre potete sostenere il mio progetto divulgativo con il super grazie oppure abbonandovi al canale ottenendo anche così dei vantaggi rispetto alla sola iscrizione. Vi mostrerò solo le parti della legge di bilancio che riguardano e che interessano l'edilizia. Questa è la prima pagina del testo approvato al senato che dovrebbe essere approvato questa sera entro questa sera 29 dicembre 2023 anche alla camera e questo testo è il numero 1627 e dal link che vedete potete scaricare l'intero documento. Chiaramente come ho detto all'inizio del video se ci saranno varianti durante l'approvazione il passaggio alla camera prima della pubblicazione appunto in gazzetta ufficiale poi una volta che uscirà appunto il testo pubblicato farò un video evidenziando le eventuali varianti ma da quello che così da quello che si sente difficilmente ci saranno delle modifiche quindi questo che vi mostrerò dovrebbe essere anche il testo che sarà poi pubblicato in gazzetta ufficiale. È un unico articolo questo documento articolo 1 e c'è tutta una serie di commi e vediamo il primo comma che vi mostro il comma 7 il quale proroga al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'agevolazione sui mutui prima casa dei giovani. Come più dettagliato nella parte che vediamo sotto diciamo la parte bianca rispetto alla verde c'è scritto appunto ai sensi a quale la misura massima della garanzia rilasciata dal fondo di garanzia per la prima casa è elevata per le categorie private dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale però qualora in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per un importo di mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile. Quali sono le coppie appunto prioritarie? Sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi e ACP e giovani di età inferiore a 36 anni che hanno appunto questo ISEE non superiore a 40 mila e che richiedono un mutuo superiore all'80 per cento degli immobili compresi ione e accessori. Quindi per queste categorie prioritarie queste agevolazioni sono prorogate al 31 dicembre 2024. Dal comma 9 al comma 13 è stata inserita questa agevolazione per l'acquisto prima casa e come vediamo per i nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con ISEE non superiore a 40 mila euro annui, oppure quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45 mila annui, oppure cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50 mila euro annui. Per questi nuclei familiari appunto c'è un'agevolazione per l'acquisto della casa di abitazione. Al comma 63 viene riportato l'aumento della cellulare secca sui affitti brevi dal 21 al 26 per cento però solo sul secondo appartamento in poi. Infatti vediamo che l'aliquota comunque del 26 per cento è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti da contratti di locazione breve relativa ad una unità immobiliare che deve essere individuata dal contribuente in sede di dichiarazioni da redditi. I comma 64, 65 e 66 riguardano le plusvalenze realizzate mediante la vendita di immobili sui quali sono stati realizzati interventi superbonus. In particolare il comma 64 riguarda la modifica dell'articolo 67 del DPR 917 del 1986 che riguarda i redditi diversi e viene inserito questa lettera BBIS indicando che vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili dove sono stati eseguiti interventi agevolati di cui l'articolo 119 del decreto rilancio quindi superbonus e che questi non siano stati conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione. Però da questi redditi diversi vengono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti all'abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte di dieci anni antecedenti all'accessione o qualora tra la data di acquisto o di costruzione e l'accessione si è decorso un periodo inferiore a dieci anni per la maggior parte di tale periodo. Se invece le plusvalenze che rientrano nei redditi diversi andranno applicate e saranno tassati con l'imposta sostitutiva dell'imposta del reddito di cui è l'articolo 1,496 della legge 266 del 2005. Queste disposizioni si applicano alle cessioni che avverranno a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2024. Il comma invece 86 e 87 riguardano l'eventuale aumento di rendita catastale che si è ottenuto su degli immobili a seguito di interventi superbonus. Infatti questi commi prevedono che l'agenzia delle entrate effetti delle verifiche catastali mirate sugli immobili che hanno subito frazionamenti, fusioni o cambi di destinazione d'uso e in base a questo verificano in particolare che la dichiarazione, appunto la variazione catastale DOCFA sia stata eseguita e con un eventuale corretto, se c'è stato, aumento di rendita catastale. Commi da 101 a 111, questo riguarda un aspetto molto delicato ma anche molto importante cioè tutte le imprese con sede legale in Italia ma anche le imprese avente sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia dovranno stipulare entro il 31 dicembre 2024 quindi praticamente tra un anno, entro un anno, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni e direttamente questi danni dovranno essere cagionati da calamità naturali o da eventi catastrofali qui sul nostro territorio. Gli eventi da assicurare sono i terremoti, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le sondazioni. In particolare che cosa si intende per i beni che vanno assicurati secondo questo comma appunto 101? Si tratta di danni ai terreni, a fabbricati, impianti e macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali quindi attenzione è molto importante anche perché come vediamo, come dal comma 102 in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sonvenzioni o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitose e catastrofali quindi attenzione se un'impresa non fa quel tipo, non stipola una polizza come da comma 101 in caso di evento calamitoso e catastrofale non avrà un contributo statale per ricostruire o riparare i danni subiti quindi è una cosa molto molto importante le imprese di assicurazione comma 103 possono offrire tale copertura sia assumando direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione eccetera eccetera comma 104 ci ricorda che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve prevedere un eventuale scoperto franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio questo aspetto dell'applicazione di premi proporzionali al rischio può spingere le imprese soprattutto per il rischio sismico che è diciamo fra quelli che sono come dire rientrano in questa polizza di cui si sta parlando appunto dai commi 101 a 111 che sono terremoti, alluvioni, frani, inondazioni e desondazioni è l'unico rischio quello dei terremoti quindi il rischio sismico nel quale il singolo privato in effetti può intervenire perché può ridurre la vulnerabilità dell'edificio la vulnerabilità sismica ricordiamo sempre anche io ricordo sempre che all'interno della valutazione dei rischi secondo il decreto legislativo 81 del 2008 all'interno di questa valutazione dei rischi che è obbligatoria per le aziende per ogni datore di lavoro è obbligatorio anche fare quella della valutazione del rischio sismico cosa che spesso non viene eseguita ma a questo punto con questa assicurazione con premi proporzionali al rischio può valer la pena effettivamente per molte aziende oltre che diciamo eseguire degli interventi di miglioramento sismico ma oltre appunto per come dire cautelarsi in caso di terremoto anche per un aspetto proprio diciamo economico quindi c'è un doppio vantaggio vedremo un po' come si svolgerà nel prossimo anno queste policy come procederanno all'interno appunto delle imprese ma ripeto consiglio assolutamente ai datori di lavoro di procedere all'obbligatoria valutazione del rischio sismico e poi anche un eventuale se necessario miglioramento sismico dell'edificio in maniera tale da poi abbattere il premio assicurativo per stipulare queste polizze comma 105 il con decreto del ministro delle economie possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione quindi qui si vedrà un attimo come si svolgerà questo aspetto comma 106 in caso di accertamento di violazione o illusione dell'obbligo a contrarre anche in sede di rinnovo l'ivas provvede a irrorare le sanzioni di cui a comma 107 quindi oltre a non poter usufruire di benefici che abbiamo visto prima di contributi o di finanziamenti pubblici ci sono anche delle sanzioni se uno non stipula l'assicurazione la polizia assicurativa di cui al comma 101 il comma 107 o qua che ve che indica che sono anche sanzioni importanti perché stiamo parlando di sanzioni da euro 100.000 a euro 500.000 quindi attenzione attenzione assolutamente comma 108 al fine di contribuire all'efficacia gestione del portafoglio gestita dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui la polizia del comma 101 la società sace spa è autorizzata a concedere a condizioni di mercato in favore degli assicuratori e assicuratori del mercato una copertura fino al 50 per cento degli indennizi quindi c'è anche una sorta diciamo di tutela dal punto di vista statale per queste polizze comma 109 comma 109 sull'obbligazione della sace spa derivanti a quelle coperture che abbiamo visto prima il comma 108 accordata di diritto di che la garanzia dello stato a prima richiesta senza regresso comma 110 per la finalità di cui dai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del fondo di cui l'articolo 1 comma 14 del decreto legge 23 del 2020 ha dato una sezione contabile con adottazione iniziale di 5 miliardi quindi sarà istituito appunto un fondo di pari a 5 miliardi per coprire questi aspetti di cui abbiamo visto infine comma 111 indica che le disposizioni di cui al comma dal comma 101 al comma 110 quindi sostanza l'obbligo di stipulare la polizia assicurativa a copertura dei danni da terremoto e luvioni frane inondazioni e desondazioni causate da questi questi 35 tipi di catastrofe non deve non è obbligatoria per le imprese praticamente da imprenditori agricoli infatti vediamo che il comma 515 della legge 234 è proprio questo che vediamo qui sotto nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole alimentari è istituito il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici causati dall'uvione gelo brina ossiccità in sostanza l'imprenditore agricolo ha già questo fondo che li copre da questi da questi come dire appunto catastrofi o danni naturali calamità naturali ricordo ancora che se in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale del testo che sarà approvato in serata alla camera se ci saranno delle varianti delle modifiche rispetto a quello che vi ho mostrato in precedenza procederò a pubblicare un nuovo video con appunto l'evidenzazione andremo a vedere che cosa eventualmente è variato ma come detto sembra che il testo sarà non sarà sarà votato in maniera come dire senza modifiche ecco senza emendamenti e quindi quello che vi ho mostrato dovrebbe essere ciò che poi sarà pubblicato in gazzetta ufficiale ma vedremo se avete delle domande scrivetele nei commenti e non dimenticate di mettere un like potete guardare subito un altro interessante video e iscrivetevi al canale mi raccomando attivando le notifiche per non perdere le prossime le prossime pubblicazioni ciao ciao